Martedì 28 giugno, benvenuti a una nuova edizione di Dal Vivo, il Tg di Milano. Andiamo subito a vedere che cosa è successo oggi e nei giorni scorsi nella nostra città. È stata presentata infatti giovedì 23 giugno presso l'auditorium Giorgio Squinzi la seconda edizione di Your Next Milano. Il rapporto annuale è promosso da Assolombarda in collaborazione con Milano & Partners che mostra la reputazione della città nell'ambito dei rapporti economici internazionali. I temi affrontati quest'anno sono stati la ripresa post-Covid e la performance delle aziende milanesi in rapporto alle nuove dinamiche economiche internazionali. Il rapporto ha mostrato che non solo la reputazione della realtà milanese è ancora comparabile a quella di grandi capitali come New York, Tokyo e Berlino, ma che nel periodo seguente la crisi pandemica l'attrattività di Milano verso gli investimenti esteri è addirittura aumentata rispetto al periodo precedente, i lockdown. Questa attrattività si riflette per esempio sul numero di studenti stranieri che decidono di frequentare le università della città e che attualmente rappresentano il 6,7% del totale degli studenti milanesi per l'anno accademico 2021-2022. Ultimo dato analizzato è infine la disoccupazione che è invece aumentata al 6,5% rispetto al 5,9% del 2021 e che quindi distanzia negativamente la nostra città rispetto alle altre metropoli di riferimento. Commentando il report di Asso Lombarda, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, afferma che nonostante la città abbia senza dubbio imboccato la strada per superare la crisi, occorre investire ulteriormente in asset strategici come per esempio il turismo, anche alla luce di eventi importanti come le Olimpiadi Invernali del 2026. E ora andiamo come sempre a vedere la situazione del traffico a Milano grazie alla collaborazione con la redazione di Luce Verde, un servizio a cura di ACI e Polizia Locale. Luce Verde Milano Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Code per traffico intenso sulla A4 Trapero e Cormano in direzione di Venezia. Proseguono i lavori sulla Milano-Lecco con code tra Monza e Lissone verso Lecco. A Milano ralentamenti per un incidente su via Comasina, altezza incrocio con via Modignani. Tutto pronto per il concerto Love Me in piazza Duomo. Potenziato il servizio delle linee Metro 1 e 3 con prolungamento dell'orario di servizio. Chiusa fino a cessate esigenze la fermata Metro Duomo. Deviazioni per le linee Tram 2, 3, 12, 14, 15, 16 e 19. Modifiche di percorso anche per diverse linee bus. In programma lavori notturni sulla A4. Chiuso a partire dalle 21 di questa sera il tratto tra Via Decertosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Riapertura prevista per le 5 di domattina. Per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito milano.luceverde.it. Bene, da Patrizia Ferrara è tutto. Grazie per l'attenzione. A più tardi. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Milano. Grazie come sempre a Luce Verde. Continuiamo con le nostre notizie. Scadranno giovedì 30 giugno le esenzioni da reddito, in particolare la E30 per patologia cronica e la E40 per malattia rara. Questa tipologia di esenzione non rientra infatti nei rinnovi automatici effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, a partire dal 1 luglio, terminerà anche il regime transitorio post-Covid. Le esenzioni da reddito E12 per disoccupazione ed E13 per cassa integrazione o mobilità avranno una durata massima annuale, non saranno automaticamente rinnovate e la loro scadenza sarà fissata al 31 marzo di ogni anno. E adesso andiamo subito a vedere il nostro collegamento perché ieri vi abbiamo parlato dell'iniziativa di SOS Lambrate per l'informazione in ambito sanitario sulla gestione delle emergenze. Oggi vi proponiamo un'intervista con Giulia, responsabile della formazione esteri a esterni dell'Associazione SOS Lambrate. Quindi grazie mille Giulia e ti chiediamo subito in che cosa consiste l'iniziativa. Allora, sono appunto quattro serate che abbiamo organizzato e sono emergenze pediatriche, gli incidenti domestici, i traumi e le emergenze per gli adulti. Allora, abbiamo creato le emergenze pediatriche cercando di strutturare la serata con una suddivisione tra parte teorica e pratica. Nella parte teorica appunto spieghiamo tutto quanto e nella parte pratica cerchiamo anche di coinvolgere i partecipanti facendo provare fisicamente su quelli che noi offriamo di manichini e provare effettivamente quello di cui trattiamo nella serata che sono l'ostruzione delle vie aeree, quindi la disostruzione che è quella che poi viene provata e l'arresto cardiocircolatorio e quindi i massaggi cardiaci. Nel caso delle emergenze pediatriche vengono fatti tutti chiaramente su manichini di bambini e infanti mentre la serata che si compone è identica anche per le emergenze adulti e viene fatta su manichini adulti. Fondamentalmente queste serate secondo me sono importantissime perché permettiamo a chiunque di capire che cosa sia importante fare, che cosa è importante anche dire quando si fa la chiamata al 112 per permettere l'arrivo dei soccorsi il più tempestivo possibile e cercare di evitare perlomeno che le cose vadano come uno non vorrebbe. Per quanto riguarda la serata degli incidenti domestici cerchiamo di capire e di analizzare quali sono gli incidenti e i traumi che avvengono tendenzialmente all'interno di un contesto domestico e comunque quotidiano come sono per tipo la medicazione di una ferita o di un'ostione che sono cose quotidiane che succedono sempre e soprattutto cerchiamo di dire anche che cosa non fare in quelle situazioni che potrebbero mettere comunque in pericolo se stessi, quindi la persona che cerca di dare una mano e anche la persona che viene assistita. Tutte queste lezioni sono sempre comunque associate a una spiegazione di quanto sia importante allertare i soccorsi nel senso che queste serate di formazione non fornescono nessun tipo di certificato se non un certificato di partecipazione e appunto sottolineiamo l'importanza di chiamare i soccorsi senza andare a sottovalutare le situazioni perché uno ha partecipato a questo tipo di corso quindi rifarsi sempre a chi è qualificato e competente per far questo. Come fare dunque il primo soccorso e quali errori si commettono? Allora, diciamo che le questioni sono svariate nel senso che dipende sempre dal contesto, dalla situazione dal bambino, in caso del bambino sicuramente è importante mantenere la calma è la prima cosa fondamentale che per quanto è quasi una situazione paradossa nel senso che una situazione di emergenza e urgenza è difficile tenerla calma però quello è il tipico errore invece che si fa anche quando ci sono per esempio incidenti in strada di creare confusione la confusione non aiuta a lavorare bene sia a noi soccorritori che anche al cittadale che si cerca di aiutare per quel che può fare durante la situazione nello specifico in realtà c'è tantissimo da dire non saprei bene su cosa orientarmi E com'è la situazione a Milano? Ricevete tante emergenze? Allora, ti inquadro un attimo la situazione nel senso che noi quotidianamente offriamo mettiamo a disposizione tre ambulanze ogni giorno che coprono la giornata intera più una che copre anche la notte lavoriamo sette giorni su sette H24 e sì, le richieste sono sicuramente tante personalmente non so fare un paragone rispetto al passato perché non sono volontaria da così tanti anni quindi non so dire mi è stata data una stima perché ho chiesto perché ho cercato di prepararmi e mi hanno detto che quest'anno abbiamo trasportato circa 10.000 pazienti e fatto più o meno 120.000 chilometri in tutto l'anno quindi diciamo che sono tante che tipo di emergenze ricevete? Le situazioni reali di urgenza e emergenza sono relativamente poche nel senso purtroppo c'è a mio parere una grande disinformazione riguardo a perché chiamare il 112 e non piuttosto rivolgersi al proprio medico di base o alla guardia medica a 6 di sera quindi spesso riceviamo chiamate che sono di persone che hanno sicuramente bisogno nel senso che una persona che è spaventata perché sta succedendo qualcosa che non è normale è chiaro che abbia bisogno di una mano però spesso l'utilizzo dell'ambulanza viene esagerato cioè si chiama spesso l'ambulanza anche per questioni che sono rimandabili ecco quello sì però di un fondo sostengo sempre che sia meglio fare una chiamata al 112 piuttosto che non farla e rischiare veramente tanto Che cos'è SOS Lambrate? Allora in generale è un'associazione che ha circa una trentina d'anni è stata istituita nel 1990 quindi è un'associazione relativamente molto giovane e mi vorrebbe da dire anche piccola perché non siamo un'associazione molto grossa facciamo parte dell'associazione della rete nazionale di ANPAS che è l'associazione nazionale di pubbliche assistenze e fondamentalmente la nostra associazione si occupa sì di primo soccorso quindi 112 però si occupa anche di opere assistenziali quindi per esempio questi corsi che facciamo ma anche servizi, quelli che noi chiamiamo servizi privati ossia trasporti sanitari non in urgenza e sostanzialmente è questo poi ci sono un sacco di sfaccettature interne all'associazione ma si potrebbe parlare veramente tanto E a proposito organizzate molti corsi? Allora fin da quando è nata l'associazione si è posta tanta importanza a creare queste attività di formazione sia interna perché per diventare soccorritore c'è bisogno di un corso interno sia esterna appunto perché sosteniamo che la formazione dei cittadini sia fondamentale appunto per quello che dicevo prima anche per evitare di ricevere chiamate di persone che non necessitano di un ricovero di un'ospedalizzazione perché sostanzialmente poi quello facciamo e inoltre perché ci sono anche evidenze scientifiche che attestano di come interventi tempestivi precoci possono aiutare e salvare la vita anche di persone prima dell'arrivo dei soccorsi perché purtroppo a volte per quanti tempi a Milano siano brevi dell'arrivo dei soccorsi purtroppo a volte non basta neanche quello quindi diffondere le informazioni e capacità a tutti quanti perlomeno metterne a disposizione è fondamentale per cambiare un po' le cose secondo me per permettere chiaramente in base a situazione contesto però anche di salvare veramente qualcuno Ricordaci le date venite al corso organizzato all'auditorium Stefano Cerri in via Amadeo no non è Amadeo scusatemi in via Valvassori Peroni 56 le serate organizzate sono giovedì 23 giugno per le emergenze pediatriche lunedì 27 giugno incidenti domestici e traumi giovedì 7 luglio emergenze pediatriche e mercoledì 13 luglio emergenze adulti a partire dalle ore 21 grazie mille Giulia a voi ciao e adesso andiamo un po' a vedere la situazione dell'area Milano in questo momento grazie alla collaborazione con Wiser il Wiser Index oggi è di 9 quindi come possiamo vedere dalla grafica direi insomma ben sotto la soglia di emergenza speriamo che continui così anche nei prossimi giorni inoltre oggi è martedì e quindi come ogni martedì vediamo anche la situazione della criminalità nella nostra città grazie alla collaborazione con Mindcrime le immagini che vediamo riassumono l'andamento dei reati nel corso dell'ultima settimana il primo grafico descrive complessivamente l'andamento dei crimini suddivisi per categorie di reato si evince dunque una netta prevalenza di crimini violenti e furti le altre fatti specie di reato sono distanziate invece in maniera relativamente significativa il secondo grafico infatti descrive i giorni più colpiti dai diversi reati si vede che i picchi di criminalità si sono avuti lunedì 27 giugno e venerdì 24 giugno in relazione alle zone in cui si è concentrata la maggior parte dei reati si segnalano Duomo e stazione centrale grazie come sempre dunque a Mindcrime continuiamo con le nostre notizie in particolare oggi per questa notizia ringraziamo il nostro inviato di quartiere Mario Donadio per averci segnalato che i lavori al parco dell'anello nome che i residenti hanno dato all'anello di allenamento del parco Chiesa Rossa Missaglia non sono ancora completati questo nonostante le numerose promesse iniziate nel 2017 e che avrebbero dovuto trovare realizzazione nel 2021 i lavori nell'area hanno avuto inizio appunto nel 2017 quando sono stati piantati i primi alberi e posate le panchine nell'arco di 5 anni sono state messe a dimora circa un migliaio di piante 600 delle quali sono alberi da frutto donati dall'associazione Boschiamo i cui frutti peraltro sono a disposizione di tutti nel 2021 dopo anni di lavori e dopo la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica la zona si presentava quasi complicata cosa manca dunque ancora? la fontanella ci sono già state sia le rilevazioni di MM sia la messa in posa delle tubazioni necessarie a chiederla gran voce oggi sono soprattutto gli sportivi e i bambini o meglio le famiglie dei bambini che usufruiscono del parco per allenarsi o per giocare noi di Milano News continueremo a tenervi aggiornati quindi continuate a seguirci ci spostiamo adesso per vedere le notizie che riguardano la viabilità pubblica grazie alla collaborazione con ATM che comunica che a causa del concerto Love Me in programma stasera presso Piazza Duomo le linee M1 e M3 resteranno operative fino a tardanotte ma vi saranno alcune modifiche al servizio i treni della linea M1 in direzione Rofiera faranno capolinea Molino-Dorino inoltre al fine di mettere in sicurezza l'area del concerto la fermata Duomo è chiusa dal primo pomeriggio di oggi per effettuare il cambio linea sarà quindi necessario usare le stazioni di centrale Loreto-Cadorna dopo la chiusura delle linee metropolitane dal momento che la partenza dell'ultima corsa prevista sarà attorno all'1 ai 10 entreranno in servizio dei bus sostitutivi per fermate orari dei bus consultate il sito ATM effettuando una ricerca per le linee bus NM1, NM2 e NM3 inoltre a causa dei lavori di riqualificazione dei binari e degli scambi dei tram in piazzale di Porta Lodovica ci saranno cambiamenti nel servizio di alcune linee di superficie in particolare fino al 30 luglio il tram 9 è sostituito dal bus B9 tra piazza 5 giornate e Porta Genova infatti per raggiungere il capolinea Porta Genova è necessario scendere alla fermata piazza 5 giornate e proseguire con i bus B9 che passano nelle vicinanze che fanno le stesse fermate del tram fino a Porta Genova ancora notizie questa volta dedicate all'emergenza ucraina è stata un successo la campagna di raccolta farmaci e prodotti sanitari nella città metropolitana di Milano organizzata dalla Croce Rossa anche grazie alle consistenti donazioni di Lioz Farmacia l'iniziativa che ha coinvolto molteplici farmacie del territorio prevedeva che quando un cliente acquistava un prodotto tra quelli inseriti in una lista stilata dalla Croce Rossa gli venisse offerta l'opzione di pagare per un'ulteriore confezione destinata alla popolazione ucraina sono così stati raccolti 12.000 prodotti che vanno ad aggiungersi ai precedenti 6.000 raccolti in un'iniziativa simile a marzo la prossima donazione dovrebbe avvenire a novembre quindi se volete partecipare tenete gli occhi ben aperti dopo i mesi estivi per i cittadini ucraini che arrivano spontaneamente in stazione centrale è presente H24, lab ucraina nel sottopasso Mortirolo punto informativo di prima accoglienza aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24 dove ATS assicura la presa in carico sanitaria e le attività di registrazione si tratta di un'iniziativa realizzata dalla Regione in collaborazione con il Comune, la Prefettura di Milano e Fondazione Progetto Arca il sito è gestito dall'ASST Fatebene Fratelli Sacco e dall'Esercito Italiano Lab Ucraina inoltre fornisce tutte le informazioni di base e provvede a segnalare eventuali necessità alloggiative alla Prefettura di Milano che si occuperà della successiva gestione procediamo ancora perché come sempre abbiamo il nostro focus dedicato al non profit grazie oggi alla nostra inviata del Municipio 3 Giuseppina Rosco che ci ha segnalato che il 29 e il 30 giugno presso il giardino di via Zannoia alle ore 21 si terrà bombino il suono del deserto uno spettacolo musicale organizzato da Noma Spazio Teatrale Teresa Pomodoro con il patrocinio del Municipio 3 nell'ambito dell'iniziativa culturale Giardini Musica Bombino non è solo uno spettacolo ma è anche una testimonianza di determinazione e caparbietà nella ricerca del proprio posto nel mondo dopo un'infanzia trascorsa tra i pascoli di Libia e Algeria studiando da autodidatta la tecnica di Jimi Hendrix e Mark Knopfler infatti Bombino è diventato un affermato chitarrista e compositore conosciuto a livello internazionale per le sue collaborazioni con artisti del Calic Bro di Stevie Wonder, Kate Richard e Giovannotti l'evento si terrà in presenza ma con posti contingentati quindi non lasciatevi scappare questa occasione prenotando il vostro posto mediante una mail all'indirizzo noma.it Noma però è scritto N-O-H-M-A per chi fosse impossibilitato a partecipare lo spettacolo sarà anche trasmetto in streaming sul sito di Noma grazie per averci seguiti fino a qui in questa nuova edizione di Dal Vivo e continuate a rimanere collegati con noi buona serata a tutti